La quattordicesima di Serie D, Girone F, propone il derby marchigiano tra Montegiorgio e Fano che mette sul piatto punti pesanti per una classifica che si sta compattando con il fluire delle giornate. Le distanze tra zona playoff e playout sono davvero sottili. Montegiorgio imbattuto sotto la gestione Baldassarri, due vittorie con Roma City e Vasto, un pari significativo a Termoli, acciuffato nei minuti finali. Terzo derby consecutivo invece per i Granata che sperano di riscattare le cocenti delusioni patite contro Vigor Senigallia e soprattutto San Bedenentese. La squadra di Mosconi, dopo un ottimo avvio di stagione, sta perdendo posizioni in classifica. Baldassarri disegna il tradizionale 4-3-3 con albanesi Tencorang e Cardoni in avanti, panchina per Antichi e Pampano. In mediana fiducia meritata per il classe 2001 Santoro, assegno contro Termoli e Vastese. Nelle Fano, Out, Padovani per infortunio e Nappo per squalifica. Centrocampo, Serges vince il ballottaggio con Niang. In avanti, tandem formato da Drolet, assegno contro la Samb e Broso, mattatore dell'ultimo successo fanese, datato 30 ottobre in quelle di Avezzano. Dirige Migliorini della sezione di Verona, Montegiorgio imbattuto negli ultimi due precedenti, disputati in Serie D. Avvio esplosivo dei padroni di casa, dopo 7 minuti albanesi sguscia via centralmente in buca per Tencorang, freddo e preciso nel finalizzare. 1-0 Montegiorgio. Risponde il Fano al 14esimo. Serges lavora un buon pallone sulla destra e scarica per Zingaretti. Tiro deviato in angolo. Al 31esimo punizione dalla sinistra di Severini, traiettoria minacciosa che muore sull'esterno della rete. Replica del Montegiorgio al 37esimo. Pallone profondo per Tencorang. L'estremo fanese Bizzini si disimpegna con i piedi. Nelle finali di tempo la gara si incattivisce, causa una serie di entrate ruvide. In minuti di recupero doppio tentativo dalla distanza per il Fano. Prima Severini al 46esimo. Forcone si blocca, poi Mancini un minuto più tardi. Palla larga non di molto. Squadre al riposo sull'1-0. Dopo un avvio bruciante il Montegiorgio si è limitato a contenere le avanzate fanesi. Granata hanno prodotto una buona prima frazione per impegno e dinamismo, ma gli strascichi degli ultimi risultati negativi pesano e non poco sulla testa dei giocatori. Buono approccio però del Fano in avvio di ripresa. Il Montegiorgio fatica ad uscire dalle trovie. Alla diciannovesimo Serges prende posizione in area e anticipa del rosso. Inevitabili il contatto e la concessione del calcio di rigore. Dagli 11 metri Broso spiazza Forconesi e ristabilisce la parità. Il vento della partita cambia direzione nel giro di pochi minuti. Al ventiduesimo Diop abbatte Drolet lanciato a rete, rosso diretto. Baldassari prova ad arginare la tempesta con l'ingresso di Baraboglia, ma al venticinquesimo il Fano bussa ancora. Palla vagante in area, Broso giudicato in posizione regolare, mette Drento di potenza. Settimo gol in campionato per il bomber Granata. Nonostante l'inferiorità numerica, il Montegiorgio non si disunisce. Dentro Pampano e Antichi per alimentare la fase offensiva. Al trentanvesimo tiro cross di Marini, Bizzini fa buona guardia. Un minuto più tardi, Perini salva su Niang, entrato di prepotenza in area di rigore. Al quarantaquattresimo punizione pericolosa di Pampano direttamente verso la porta, la difesa del Fano riesce a liberare con un pizzico di affanno. Al rimbaggio del Montegiorgio nei sei di recupero, ma al novantacinquesimo è Niang a mancare il 3 a 1 in contropiede per il Fano, mentre il Montegiorgio non riesce a produrre occasioni significative. Prima sconfitta della sessione Baldassarri e cade il Tamburrini dopo tre mesi di imbattibilità. Torna a gioire il Fano grazie a un secondo tempo caparvio e di notevole personalità che testimonia il valore complessivo del team di Mosconi. Nelle dopogara sentiamo le voci di mister Baldassarri e del presidente del Fano, Russo. Mister Baldassarri, siete partiti molto bene, scambi veloci, la posizione di albanesi che creava grandi problemi al Fano, avete sbloccato la partita, poi come è cambiata secondo lei, come si è evoluta la gara? Si è evoluta come l'avete vista. Chiaro che il calcio di rigore ha causato secondo me un po' ingenuamente, ha cambiato un po' le dinamiche della partita. Poi subito dopo c'è stata l'espulsione, siamo rimasti in dieci e abbiamo dovuto sconvolgere un pochettino anche il nostro modo di giocare, di approcciare la partita. Poi c'è stato il raddoppio e poi da lì in ferita numerica è chiaro che si fa dura. Il Fano, rientrato dagli spogliatoi, ha preso in mano la gara. Si aspettava questo atteggiamento aggressivo del Fano? Voleva invece Montegiorgio un pochino più alto e meno schiacciato? Forse su questo aspetto ha qualcosa da recriminare? No, recriminare non c'ho mai da recriminare, perché poi le dinamiche di gioco dentro al campo non è facile da giudicare neanche per noi che siamo, diciamo così, del mestiere, chiamiamoci così. No, il Fano è rientrato perché chiaramente perdevano a zero, è chiaro che hanno spinto di più, però fino al rione non hanno calciato mai in porta, quindi, ma questo è un dato di fatto, non lo dico io. Noi abbiamo preparato la partita, avevo visto, diciamo così, in qualche occasione erano monotematici nel senso che le partite avevo visto, le giocate sono sempre quelle, quindi noi le avevamo preparate bene e quindi il primo tempo secondo me abbiamo, praticamente siamo stati bravi a limitarli e anche a offenderli. Il secondo tempo poi, ripeto, dopo il calcio di rigore diventa tutto più difficile. Comunque anche in 10 contro 11 ci avete provato, lei ha messo dentro tutti gli attaccanti che aveva e in qualche circostanza si poteva anche arrivare al pareggio. Ma sì, ci abbiamo provato con tutto quello che abbiamo in rosa, la nostra squadra è questa, un gruppo molto giovane, però un gruppo che ascolta, secondo me, ha anche margine di miglioramento, un gruppo che quando, diciamo così, quando adotta le cose che prepariamo, che gioca anche un po' in calcio, secondo me, e abbiamo anche margine di miglioramento perché la squadra è giovanissima. Presidente Russo, una bella vittoria in rimonta per il Fano dopo un momento difficile, soprattutto su piano dei risultati, più che su quello delle prestazioni, oggi una bella prova di carattere della squadra. Sì, sì, penso che sia la prova che ci voleva. Avevamo bisogno forse di una vittoria in rimonta per sbloccarci, ancora di più in questo periodo. Io alla squadra non posso recriminare nulla, forse ha sbagliato solo una partita, quella di Senigallia, poi per il resto sul piano della prestazione la squadra ha sempre dato ottime prestazioni e venivamo da un filotto di risultati negativi, un punto in quattro giornate che avevano forse fatto iniziare a trapelare un po' di timore nei ragazzi, quindi insomma affrontavamo il Montegiorgio che era una squadra in salute, ha fatto otto punti nelle ultime quattro, quindi nulla da dire, insomma c'era la giusta concentrazione, sapevamo che dovevamo fare una bella partita e i ragazzi hanno risposto.